Finalmente dopo anche diverse polemiche per i lavori effettuati nelle scorse settimane e anche per i ritardi, finalmente da questa settimana i dipendenti possono soffrire dei parcheggi gratuiti? Sì, era nei programmi della ASL già da oltre due mesi ormai, come era stato abbondantemente fatto chiaro già dall'inizio, finalmente dopo la nevicata abbondantissima siamo riusciti a fare i lavori per creare appunto questa barriera a sbarra che consente solo ai dipendenti di entrare e quindi abbiamo attuato un progetto che era già ampiamente previsto. Quanti stalli sono, ricordiamo? Ecco, credo che i dipendenti possano essere ampiamente soddisfatti di questo perché abbiamo messo a disposizione oltre 400 stalli per i dipendenti, per la precisione 460. E al lato di questo poi tutto intorno all'ospedale, secondo quelle che sono le possibilità date dalla legge, messo a disposizione una sessantina di posti macchina per le categorie da proteggere in qualche modo, cioè i pazienti che devono fare la dialisi, i donatori di sangue, gli anticappati eccetera eccetera. E quindi in tutto questo abbiamo seguito un programma che era stato abbondantemente esposto anche ai media già da tempo.